Lo sapevo, lo sapevo che parlare di gratitudine, relazioni, gioia, felicità avrebbe sollevato un polverone, non una polverina rosa fatata, ma un polverone denso e fumoso. Infatti mi avete scritto tantissimi commenti e tantissime domande che non sprizzano proprio felicità. Oggi voglio raccontarvi di Patrizia e Teresa, due amiche di YouTube che stanno vivendo una situazione particolare. Spero che la mia risposta possa aiutarle e aiutare anche altre persone a liberarsi dal dolore, riprendere coraggio, trovare una nuova autostima e una nuova fiducia in sé e nella vita. Il tema è molto delicato ma in questi casi è giusto aprirsi come hanno fatto loro. Patrizia mi chiede come reagire quando prima si viene illusi e poi lasciati? Puoi consigliarci come non cadere in depressione e dimenticare chi non merita il nostro dolore? E Teresa scrive le mie ansie, paure, insicurezze e aspetto fisico hanno portato a sfinire un rapporto e ora non ho più prospettive, futuro, sogni. Ho perso tutto e ho paura di risoffrire sapendo che un ragazzo così non lo troverò mai più e che lui non tornerà più. Patrizia, Teresa e tutte le amiche e gli amici sensibili a questi temi. Anch'io ho conosciuto la vostra sofferenza. Si arriva a dei punti in cui vorresti solo sbattere la testa contro il muro e sparire per smettere di pensare e non provare più dolore. È terribile, lo so. Per esperienza vissuta sulla mia pelle vi dico che adesso l'unica cosa da fare è capire che è arrivato il momento di fare un click interiore, un passo importante. Se pensate come ho pensato io che a un certo punto è necessario liberarsi dal dolore, ecco cosa fare. Lavorate sul vostro atteggiamento e come si fa mi direte voi. Quando si soffre non si sa da che parte cominciare ed è così. Ma alla fine è abbastanza semplice. Bisogna partire dalla cosa più vera e naturale che tutti possediamo. Noi stessi. Quindi oggi vi invito a partire da voi stesse. Bisogna ripartire da chi si è. Ma come ricordarci e ricollegarci a chi siamo veramente in questi momenti in cui ci sentiamo illuse, tradite, magari delle stupide? Ecco la risposta. Bisogna ripensare a ciò che di buono abbiamo fatto nella vita fino ad oggi. Solo nel cuore troviamo la somma di quello che abbiamo fatto di costruttivo, di buono, di sano, di creativo. La mente invece ci ripete sempre quello che non abbiamo fatto, che non abbiamo ottenuto, che abbiamo perso. È vero? Vi siete mai chieste perché? Le cose sbagliate non cambiano mai. Perché la mente lasciata sola torna sempre sulle brutte esperienze e resta ferma lì. Non riesce a spostarsi. Conta e riconta l'elenco delle sconfitte, come un disco rotto. Invece le cose buone nate dal cuore possono cambiare, crescere, migliorarsi e migliorarci perché possono essere ripetute e sempre meglio. Per questo bisogna restare concentrati sulle cose buone nate dal cuore. E di cuore voi ne avete tanto. Lasciate che la mente faccia i suoi elenchi di cose negative. Ma voi pensate con il cuore? Sì, ho detto pensate con il cuore. Non è un controsenso. Il sentire è il vero pensare. Solo le cose buone, positive, le cose buone che abbiamo fatto sono dentro di noi. Sono ciò che noi siamo e nulla e nessuno ce le potrà mai togliere. Sono sempre con noi. Patrizia, mi hai scritto che sei stata sposata per 25 anni e hai sei figli. Sicuramente hai conosciuto l'amore, sei stata amata, hai amato con il cuore, con la mente e con il corpo. Tant'è che hai generato sei figli. Sei stata capace di costruire sei figli, di farli crescere, di tenerli insieme. Ci sono tantissime cose buone e positive in questo. Io posso solo provare ammirazione per una vita così importante come la tua e con me sicuramente anche tante altre amiche di questo canale. Il modo definitivo per superare una separazione è focalizzarsi sulla forza che abbiamo dentro. E non parlo della forza in senso filosofico. Parlo della forza nata da ciò che abbiamo fatto di buono e di concreto nella vita. Voi siete quelle cose buone prima di ogni altra cosa. Voi avete amato, avete dato amore, vi siete espresse in un rapporto. Pensate a ciò che avete fatto e non alla fatica o al risultato. Se appoggiamo la nostra felicità, la sicurezza, l'autostima, la stabilità interiore su un'altra persona commettiamo un errore perché per quanto l'amiamo resta qualcosa di esterno a noi e non è detto che duri tanto quanto noi. La sua curva temporale può non coincidere con la nostra, può venire a mancare, può lasciarci, non necessariamente perché è un bastardo ma perché l'amore per sua natura non è eterno. Due persone si incontrano, si piacciono, si amano ma non è detto che la loro linea del destino resti parallela tutta la vita. Può incrociarsi per un periodo più o meno lungo e poi proseguire in un'altra direzione. E questo vale per tutti e due e bisogna sempre tenerlo presente in ogni rapporto. Considerate questo, proprio adesso che siete nella sofferenza avete l'opportunità di fare un passo avanti importantissimo per la vostra crescita interiore e imparare a sentire che la vostra felicità, la gioia, la sicurezza sono dentro di voi e non dipendono dagli altri, sono le cose che avete fatto e le cose che potrete continuare a fare. Adesso vi darò un esercizio che sbloccherà tutto. Ma prima voglio dirvi una cosa, ho lavorato molto su questo video perché lo ritengo importante. Condividetelo con tante amiche, facciamo una bella sorellanza tutta femminile e mettete un bel mi piace per me. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E adesso fate questo esercizio, è importante, prendete un foglio di carta e scrivete tutte le cose positive che avete fatto. Fate un elenco lungo e dettagliato. Poi prendete un cuoricino rosso, un bottone rosso, una chiavetta, un oggettino rosso a forma di cuore e simbolicamente immaginate di trasferire tutte le cose buone in questo cuore e tenetelo sempre con voi. Cucitelo nella fodera della vostra giacca preferita, mettetelo in tasca, nelle borse, mettetelo nella cover del telefono e se vi chiedono cos'è, fategli vedere questo video. Così vi ricorderete sempre chi siete e che nessuno può portarvi via ciò che voi siete. E vi dico di più, quando si inizia a vivere in questa consapevolezza, indipendentemente dall'età, si attirano persone altrettanto consapevoli che vivono la loro positività come voi. E quando non sarete più disposti a spostare l'asse della felicità da dentro a fuori di voi, incontrerete la persona giusta. Impariamo a restare stabili nella nostra positività. Siamo nati per essere felici, incondizionatamente felici. Per questo ne parlo tanto nei miei video. La felicità si perde quando ci dimentichiamo chi siamo e lasciamo che la mente si soffermi sugli aspetti negativi della vita. Ma voi no! Allora forza con l'elenco, fatelo subito, fatelo adesso. Credetemi, un elenco di cose positive e un cuoricino rosso possono cambiare tutto. Fatemi sapere come va e noi ci vediamo al prossimo video naturalmente. Ciao!